A preso il via oggi la preparazione delle treppini in vista del prossimo torneo di calcio di eccellenza sotto la guida del nuovo allenatore Alessandro Cagnale, convocati tutti i calciatori in organico e presenti per la prima seduta allo Stadio Ferrande di Piedimonte Matese, rinnovato e pronto ad ospitare il nuovo campionato, sugli spalti anche i dirigenti e numerosi supporter, insomma la squadra è partita con rinnovato entusiasmo a margine degli allenamenti il nostro Emidio Bianchi ha sentito alcuni dei protagonisti Prima giorno di preparazione per il treppini con il dirigente Ivan Filetti, le prospettive di questa squadra? Sicuramente qualcosa di buono perché puntiamo molto sui giovani, non so se avete visto da quest'anno cambiamo letteralmente registro, si parte da un allenatore che punta tantissimo sui giovani e quindi ripartiamo dalla vecchia guardia ma con proposte nuovissime Ecco, acquisti soprattutto per sostituire Napoletano? Per quanto riguarda Napoletano il mio direttore se già sta vedendo in questi giorni penso avremo qualche risposta anche se c'è qualche giovane interessante vediamo un attimo come orientarci e su chi insomma Il campo farà la differenza quest'anno? Il terreno di gioco? Finalmente a casa diciamo così, ci alleniamo e giochiamo qui si riparte insomma da un altro anno sperando di fare di meglio anche se Di meglio vuol dire vincere il campionato? Esatto e questo qua penso che sia l'obiettivo di stare nei primi due o tre posti insomma In bocca al lupo Crepi Ecco la chioccia dei portieri Romagnini, farai ancora il secondo o pensi solo di fare il preparatore? Non siamo in circa di, innanzitutto voglio risalutare tutta la cittadinanza di Piedimonte vorrei fare un appello di stare vicino alla squadra il più possibile di darci una mano perché l'anno scorso ci è mancato proprio quel piccolo passo per andare in Serie D Quest'anno penso che con un campo a disposizione, con la gente che ci può dare una mano possiamo arrivare in Serie D, la squadra c'è, le sposti pure noi siamo qua, dateci una mano, è un appello che faccia tutta la cittadinanza di Piedimonte Ecco, per quanto riguarda la domanda di prima io faccio il preparatore dei portieri, cerco di dare una mano a questi ragazzi adesso siamo in cerca di due portieri se poi dovessi servire malaguardamente, diciamo, io non mi tiro mai indietro Dallo Stadio Ferrante di Piedimonte Matese è tutto